Altri due fermi per l'attentato del 14 luglio a Nizza. Una fonte giudiziaria fa sapere che questi nuovi provvedimenti sono stati effettuati nel quadro degli accertamenti per determinare se l'attentatore abbia potuto beneficiare di sostegni logistici. Non si conoscono le identità delle due persone, ma una sarebbe apparsa in una foto, scattata a bordo del camion noleggiato da Mohamed Bouhlel per investire la folla che assisteva alle celebrazioni per la festa nazionale francese. Nella strage sono morte 84 persone e oltre 300 sono rimaste ferite. Giovedì scorso altri 5 sospetti, 4 uomini e una donna, erano stati incriminati e posti in custodia cautelare.